Ed è una settimana che in gran parte del mondo si discute sul muro di Tram e sulle sue misure in materia di immigrazione. È giusto che sia così, è buono che sia così. Dal confronto, addirittura dallo scontro, possono venire fuori delle cose positive, trovare vie di soluzione, trovare modi di affrontare i problemi dell'umanità. Si può essere in disaccordo educatamente, diceva Obama, ed è giusto che sia così e che tutti la pensino così. L'importante è non perdere di vista la questione fondamentale, quella di fondo, quella che pone come problema l'umanità il muro di Tram, e cioè l'ideologia della separazione, dello scontro, dell'antagonismo, del disaccordo. Questo non è buono, questo non è positivo, questo è preoccupante, perciò dobbiamo sempre mettere al centro, e lo ha detto oggi Papa Francesco in un suo tweet, l'umanità. Solo l'umanità di ciascuno di noi ci può salvare e ci può aiutare a affrontare i problemi. L'importante è non perdere di vista che alla fin fine c'è una sola cittadinanza la quale non si può renunciare mai, la nostra umanità.